We Love Nevegal, quindi il progetto di rivitalizzazione del colle tanto amato ai bellunesi, siamo un'ulteriore puntata, l'ultima solo per questo momento, poi riprenderemo a primavera ma con anche delle novità per quanto riguarda l'inverno e con Lorenzo Baldarello, Woff Italia, gli artefici di questo progetto We Love Nevegal insieme agli altri stakeholder che abbiamo conosciuto nell'arco di queste puntate, allora ben ritrovato Lorenzo, la prima puntata introduttiva con te adesso questa finale della prima serie perché chiaramente We Love Nevegal non si esaurisce con l'inverno, ora siamo alle porte della stagione invernale ma proseguirà anche anzi state già lavorando anche per l'estate con l'inverno imminente, ma andiamo assoluto sull'inverno, quindi con Davis Bien abbiamo detto il 20 dicembre o forse anche prima si uscirà a nevegal, quindi adesso si attendono un ulteriore abbassamento di temperature per sparare con i cannoni e quindi tutto procede secondo quello che avevate ipotizzato anche per il marketing Lorenzo? Assolutamente sì, in questo momento noi stiamo praticamente vedendo condolomiti ski line che sono appunto quelli che gestiscono gli impianti, i nostri partner negli impianti e stanno appunto aspettando l'abbassamento delle temperature ma fortunatamente il meteo sembra toccando ferro che ci siano delle temperature che permetteranno nei prossimi giorni di cominciare con l'innevamento artificiale e quindi creiamo la base come ha spiegato Davis che è logicamente più tecnico, io logicamente non sono un tecnico però insomma si comincerà anche con questa attività che è estremamente importante per aprire poi il 20 dicembre insomma o anche prima se si riuscisse però insomma 20 dicembre noi vogliamo dare un riferimento temporale e poi chiaramente se sono sorprese benvengano però insomma 20 dicembre è una data che ci siamo che ci siamo posti come obiettivo e poi tutto il piano marketing assolutamente sta andando avanti con tutto quello che è la promozione del territorio e con tutto quello che sono anche le iniziative che andremo a fare sia questo inverno che la prossima estate. Ecco tra l'altro sci ma non solo perché il collo di Nevega si presta anche ad altre attività come lo sci alpinismo, le ciaspe, le camminate, a questo proposito, tornando per un attimo al sci alpino, turisti della regione, italiani ma anche soprattutto i bellunesi insomma e allora ci sono delle possibilità, degli abbonamenti a delle condizioni particolari si possono pare fin da ora Lorenzo. Sì, allora con Dolomiti Ski Line abbiamo fatto una scelta praticamente che è stata appoggiata fin da subito anche da loro e abbiamo pensato che proprio per dare nuova vita a questo colle abbiamo mantenuto non solo i prezzi diciamo dello scorso anno ma li abbiamo addirittura leggermente abbassati quindi rispetto ad altre località turistiche con l'aumento dei costi che tutte le stazioni sci stiche hanno avuto media 5-6% esatto noi invece siamo rimasti addirittura leggermente più bassi quindi con delle offerte che già come sai erano competitive lo scorso anno quindi quest'anno diventano ancora più competitive ma non solo ti dirò di più come si vuol dire no? C'è stata anche pensata appunto una promozione particolare fino a dicembre per quelli che l'anno scorso avevano fatto lo ski pass e poi per tutte le questioni che noi che ben sappiamo di fatto non hanno potuto fruirne e quindi per loro addirittura ci sarà un'ulteriore promozione proprio perché vogliamo ringraziarli per la fiducia e sperando che ci diano altrettanta fiducia per i prossimi anni e lo speriamo veramente quindi sul sito dolomiti skiline www.dolomiti.com sono già disponibili tutti i pacchetti di abbonamento allora nelle puntate precedenti abbiamo incontrato le associazioni degli altri partner e lo diciamo lo sci ma il nevegale è anche il salotto buono diciamo così di belluno anche per l'intrattenimento allora come eventi vi posizionate già in dimensione estate oppure è possibile ipotizzare qualcosa anche per questo inverno Lorenzo? Allora come tu sai We Love Nevegale ci tengo sempre a precisarlo è un progetto più ampio del singolo impianto ovviamente comprende gli impianti ma c'è tanto altro è uno sviluppo territoriale è uno sviluppo che va a vedere più aspetti come giustamente sottolineavi per gli eventi tu devi calcolare sempre che per pianificare un'attività ci vogliono mesi e bisogna pianificarle bene noi abbiamo una mentalità che vogliamo portare in tutti i nostri progetti compreso Nevegale le cose vanno fatte bene e vanno fatte con i tempi giusti perché la fretta è cattiva consigliera e si rischia di fare cose che non vanno bene noi vogliamo fare delle cose che siano diciamo valide per tanti anni a venire e quindi abbiamo chiuso un accordo con la società Euforica che è una delle società principali di eventi in Italia e con loro stiamo già pianificando delle attività e degli eventi di alto livello anche sul Nevegale adesso per l'estate chiaramente perché per l'inverno bisognava pianificarlo ancora mesi fa ma ricordiamo sempre che fino al 19 giugno non sapevamo neanche se avremmo avuto gli impianti o meno opportuna precisazione e quindi questo è importante però questo inverno stiamo ragionando comunque per fare una preschi di un certo tipo e comunque per portare divertimento per portare anche appunto musica tutto quello che è il divertimento che va associato anche alle scia, alle camminate e a tutto il resto e stiamo continuando nel dialogo con gli operatori per creare anche delle situazioni anche con gli operatori di magari pacchetti eccetera che possono essere interessanti già da questo inverno però come ti dicevo sarà un inverno di transizione ma non un inverno sotto tono certo non ti chiederò quindi il grande beglione di capodanno o quant'altro ma ecco iniziare a capire che il rilancio del Nevegale è un progetto a lungo termine allora per il marketing so che è una novità che ci dà in anteprima proprio in questa trasmissione e te ne ringraziamo avete una nuova mascotte giusto? vogliamo farla vedere ai nostri telespettatori e poi spiegare come è nata l'idea questa è la nuova mascotte si chiama Kiki 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 è il nome della mascotte ed è la mascotte del progetto We Love Nevegale perché chiaramente noi dobbiamo calcolare che i bambini diciamo vogliono anche vedere una mascotte un qualcosa di simpatico Kiki è un piccolo galletto praticamente e attorno a Kiki i responsabili del nostro reparto marketing crea tutta una serie di eventi di particolari attività eccetera in maniera che non solo i bambini anche gli adulti possono avere comunque in We Love Nevegale anche un riferimento grafico di un galletto diciamo che sponsorizzerà il Nevegale e quindi pensate anche a un merchandise in qualche cosa sì assolutamente farlo diventare un brand ma che non andrà a sostituire però We Love Nevegale no no è la mascotte di We Love Nevegale non è la mascotte del Nevegale Nevegale ha già il suo simbolo eccetera questa è la mascotte proprio del progetto di sviluppo territoriale quindi magari non lo so penseremo che il bambino può farsi la foto con Kiki oppure eventi particolari in cui Kiki sarà comunque la figura diciamo grafica che sponsorizzerà il progetto We Love Nevegale mancava una mascotte da questo punto di vista quindi adesso grazie anche allora divertimento torniamo proprio qui l'inverno quindi alle porte abbiamo parlato di impianti risalite ma non trascurabile anche i rifugi, i bar, i ristoranti com'è la situazione? avete dialogato? stiate dialogando per una strategia comune perché ci dicevi il divertimento non soltanto lo sport in Elegale abbiamo dialogato e stiamo tuttora dialogando perché comunque riteniamo che ci sia tanto altro dalle camminate, le ciaspolate al fatto di andare in un rifugio e prendersi un aperitivo con un panorama bellissimo quindi stiamo dialogando con tutti loro abbiamo avuto una grande apertura da parte di tutti devo dire sinceramente abbiamo avuto un appoggio molto maggiore di quello che avremmo auspicato e quindi insomma speriamo che sempre di più si riesca poi a coinvolgerli perché sono anche loro il valore del territorio chiaramente e insomma fare qualcosa di buono che vada al di là del singolo impianto anche se appunto si scerà e quindi questa è la cosa importante perché poi l'inverno comunque è anche quello però è anche quello non solo quello non esclusivamente quello e allora a livello di aspettative Lorenzo avete a livello numerico vi attendete un obiettivo per la stagione che appunto andrà a 20 dicembre o anche prima fino a marzo ci ha detto Davis Biena obiettivo di passaggi sulle piste avete ragionato su questo oppure in questa prima stagione invernale quello che viene è tanto di guadagnato diciamo così allora noi speriamo che il fatto di avere avuto di avere un progetto a lungo termine il fatto di avere comunque una progettualità di un certo tipo possa coinvolgere le persone in questo progetto e venendo a sciare sul Nevegal oltre ad avere una cosa bella divertirsi comunque si aiuta anche a far crescere questo territorio quindi noi ci aspettiamo una risposta ottima da parte degli utenti come abbiamo avuto anche in estate e noi come We Love Nevegal faremo di tutto per proseguire in questo progetto Dolomiti Schiline appunto posso garantire perché Davis Biena ci parlo costantemente farà di tutto per rendere fruibili le piste e rendere divertente la stagione e quindi noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile e speriamo di essere premiati anche perché ripeto una famiglia una serie di un turismo di un certo tipo può trovare nelle gare una valida alternativa e anche un'alternativa comunque di qualità perché ripeto e questo scusa se lo ripeto ma ci tengo sarà un inverno di transizione ma non un inverno sotto tono perché sai poi la gente pensa di transizione non si fa nulla no 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 certo transizione vuol dire che poi punteremo molto più in alto hai motivato efficacemente appunto che le cose fatte bene vanno pianificate e serve il giusto tempo questo è quello che abbiamo compreso da te parole senti Lorenzo quindi andremo verremo anche noi a testimonare con voi come è l'inverno in Nevegale anzi la prossima puntata direi in dicembre se siete d'accordo la faremo proprio sul campo in Nevegale un'ultimissima domanda We Love Nevegale pensiamo agli istruttori di Ciaspe piuttosto che ai volontari come avvicinarsi a questo progetto per i tanti delle spettatori che magari ascoltando le tue parole apprezzano ciò che fate e vorrebbero esserne partecipi allora collegandosi al sito welovenevegal.com trovate tutti i nostri riferimenti basta scrivere c'è uno staff dedicato che appunto va a vedere anche tutto quello che viene proposto e anche attraverso i social nei social appunto di We Love Nevegal si potete contattare i nostri esperti risponderanno tempestivamente abbiamo uno staff dedicato a questo proprio guarda cinque minuti prima di entrare in trasmissione mi è arrivato un'email di una società che ha degli appartamenti che vuole metterli a disposizione del progetto We Love Nevegal e ci ha scritto attraverso il portale We Love Nevegal quindi tutti sono ben accetti e anzi grazie anche a te per l'opportunità che ci hai dato e che ci stai dando e a tutta Telebelluno che veramente è un partner di livello per noi grazie veramente anche a voi per aver reso partecipi i nostri tre spettatori del vostro progetto non finisce qui ripeto ci sentiremo e ci rivedremo veramente a breve grazie quindi a Lorenzo Baldanello per essere intervenuto e buon lavoro a voi di We Love Nevegal grazie Claudio e vi aspettiamo tutti in Nevegal e grazie anche a Simone Tolotta alla regia a voi tutti per la gentile visione arrivederci grazie a tutti